Hanno sofferto moltissimo la chiusura e questo lunedì hanno riaperto, nonostante la difficoltà in alcuni casi a reperire la merce per via delle difficoltà nelle consegne. I negozi di vestiti e più in generale le attività del commercio hanno cercato di far fronte alla stagione persa a causa del lockdown attraverso la vendita online, ma è difficile battere la concorrenza dei colossi dell'e-commerce e ora puntano a riallacciare quel rapporto di fiducia con il cliente, quanto mai importante in tempi in cui la distanza e la tecnologia prevalgono. Si è provato a lavorare un minimo online con le aziende, ma si è stata soltanto una comunicazione perché noi lavoriamo con clienti, la reale, quindi per noi il lockdown è stato duro e non c'è stata possibilità proprio di lavorare. I genizzanti per le mani ovunque, guanti monouso anche per i clienti che toccano la merce, mascherine per tutti, temperatura corporea approvata ai dipendenti, le linee guida per la vendita di abbigliamento sono un po' quelle di tutte le attività e ci sono negozi più avvantaggiati di altri per via dell'ampiezza degli spazi che consente una distanza maggiore tra i clienti. Un metro e mezzo di distanza, obbligo di mascherine e guanti sia per noi che per il cliente, igienizzarsi continuo e comunque anche i locali vengono igienizzati più spesso di prima. Anche da linea guida comunque noi manteniamo un certo rigore nel far provare la merce, però non c'è assolutamente nessun divieto di provarla e viene comunque fatto in sicurezza. Per il settore alle prese con le spese dei mesi di marzo, aprile e maggio da pagare nonostante la chiusura, ora c'è un'altra incognita che pesa, oltre naturalmente alla difficoltà di vincere la diffidenza del cliente a tornare a fare shopping come prima, ovvero i saldi estivi. C'è da dire che avendo perso interamente la stagione, dei saldi a luglio creerebbero delle problematiche diverse perché avendo perso le vendite regolari durante i primi mesi dell'anno, i primi mesi della primavera, avere poi già un saldo a luglio vorrebbe dire praticamente saltare la stagione. L'obiettivo è rimandare i saldi almeno alla fine dell'estate in modo da salvare almeno la stagione estiva. Secondo Conf Commercio, il settore del commercio ha riaperto questo lunedì per il 90% e la ripartenza ha evidenziato il desiderio del ritorno alla normalità da parte del cliente che viene messo in condizione di fare acquisti in sicurezza. Abbiamo già avuto dei primi clienti che sono venuti a trovarci e ci ha fatto molto piacere. Bisognerà aspettare per capire come ci si muoverà e come la gente poi prenderà il ritorno alla normalità.